Con un voto unanime il Consiglio Comunale di giovedì scorso ha reso pienamente operativo il piano di gestione degli impianti sportivi. Da adesso pertanto sarà possibile gestire l'impiantistica a vittoria affidandole alle associazioni che ne hanno fatto richiesta attraverso una selezione per bando pubblico. Soddisfatto l'esperto del Sindaco per le problematiche sportive Fabio Prelati, dopo la piena approvazione da parte della Commissione Consigliare Sport e Cultura e quella recente del Civico Consesso, sarà possibile dare piena attuazione al regolamento elaborato con l'amministrazione comunale. Attraverso l'emanazione di un bando pubblico, spiega Prelati, chiederemo alle associazioni sportive di assumere la gestione della quasi totalità delle nostre strutture sportive e ciò verrà attraverso criteri e parametri chiari e trasparenti. La forte collaborazione, che sono certo ci legherà con il mondo associazionistico, aggiunge, permetterà una compartecipazione alle esigenze di intervento strutturale di cui necessitano alcuni impianti, in modo da poter restituire così alla collettività spazi doni e funzionali. Questo, dice Prelati, è l'auspicio che ci accomuna a quei consiglieri comunali e anche di opposizione che desiderano vivamente ringraziare per il contributo fornito e per aver approvato all'unanimità quest'ulteriore atto che va a favore dello sport vittoriese.